Capacità di adattamento organizzativo e resistenza al caro prezzi. E' questo lo spirito degli artigiani pugliesi e brignisini che dopo la crisi legata alla pandemia, l'aumento dell'energia legato alla guerra e per ultimo l'elevato costo del carburante provano a superare con sacrifici questa complicata fase, lanciando però tramite la Confartigianato un appello a regione e governo per interventi concreti che possono permettere la sopravvivenza di un settore come quello artigianale, che in particolare al sud rappresenta un pezzo importante dell'economia locale. La difficoltà è ancora notevole da parte di molte imprese, chiaramente le imprese che aumentano il prezzo del prodotto lo aumentano di poco e continuano a sacrificare se stessi i titolari delle imprese artigiane e i familiari, quindi arrivano a lavorare fino a 10-12 ore al giorno, pur di non perdere quella clientela storica. Penso al pane per esempio, non sono riusciti a portare il prezzo del pane oltre i 3 euro, quando oggi il prezzo giusto, perché possa essere economicamente sostenibile, il prezzo del pane comune dovrebbe superare i 4 euro al chilo. Oggi resistono, lo tengono così basso per consentire alla clientela storica più diffusa di trattenerla. Se così dovesse continuare e i costi dovessero continuare a crescere, potremmo vedere la chiusura di molte aziende. E qui il ruolo delle nostre organizzazioni l'ha confrattigionato in primis quello di insistere sui governi regionali e nazionali perché si possono ridurre dall'altra, oltre ai costi delle energie e dei carburanti, ma anche ai costi del fisco, i costi della previdenza, i costi del lavoro dipendente che rimangono sempre troppo alti.